Al meeting, dalle periferie del tempo, una mostra sull'origine della civiltà in Siria. Percezione, linguaggio, scrittura, tre tappe attraverso le quali si sviluppa e si affina la capacità di comunicare e quindi di rapportarsi. Qual è il legame solidale che permette l'emergere della civiltà dell'antica Siria? Quello che la civiltà ha cambiato è la capacità di rapportarsi fra di noi, cioè fra di loro ma poi oggi fra di noi, non perché ci conosciamo ma perché serviamo a una certa funzione che è magnifica e che rende tutto molto più efficiente. Il passato, allora, ci permette di capire meglio il presente e di intravedere come il destino non lasci solo l'uomo. In questa lunghissima traiettoria di due milioni e passa anni c'è come una coerenza nel processo storico, nella sequenza del progresso, nella quale ci ritroviamo. Chi crede in Dio lo attribuisce a una volontà divina.